Ricordiamoci, se tu fai fatica a darti il valore rispetto a un'operazione economica quale tu presti un servizio, massaggio, estetista, lettura dei tarocchi e via dicendo ma ci possiamo spaziare tantissimo e hai paura di perdere il cliente chiedendo 5 euro per dire ma sai di valere 80, 90, 100, chissà quanto, ebbene quella paura non nasce da te o da una tua incapacità di gestire le cose nasce a monte da un figlio che non è stato riconosciuto come doveva essere riconosciuto perché io qui ho scritto una frase, ho scritto il padre deve riconoscere il figlio nel momento in cui va riconosciuto Benvenute e benvenuti in un nuovissimo video, per i nuovi io sono Fabio Nezzac e da un po' di giorni che non ci vediamo e sono contentissimo di poter registrare un nuovo video però prima di partire con l'argomento ringrazio per l'ennesimo regalo che mi fate voi della community attraverso il link in descrizione e guardate un po' che bellezza che pacco regalo, che signor pacco regalo allora questo è un libro che io ho desiderato ricevere già da più di un mese e mezzo mesetto, quando ho saputo che Joel Dicker ha pubblicato il nuovo librone perché questo è un librone che come vedete io ho già cominciato a leggere e anche a sottolineare è l'autore della verità del caso Eric Berth Joel Dicker, io ho letto tutti i suoi libri, sono tutti grossi così conosco persone che lo amano, lo apprezzano conosco anche un'allieva scrittrice che è pure iscritta alla pagina Instagram di lui e quindi insomma è un autore che piace tantissimo, ve lo consiglio tantissimo questo autore poi ognuno ha i suoi gusti voglio leggervi cosa ha scritto, chi è, allora quindi chi ringrazio questa volta io ringrazio con tutto il nostro affetto perché è marito e moglie da Mary Mary carissima che io oggi ho sentito per telefono ci ho parlato un bel po' come faccio praticamente sempre con le persone che mi inviano i libri vi ringrazio tantissimo Mary e marito bene passiamo all'argomento di oggi vi sarà capitato almeno una volta nella vostra vita di sentirvi rifiutati rifiutati per un'idea, rifiutati dal partner rifiutati in qualsiasi tipo di argomento possibile che possa girare nella nostra vita ed è una ferita di non poco conto ovvio è che quando ti senti rifiutata come persona ti chiedi ma perché mi è accaduto tutto questo e la lettura che diamo in più delle volte si riferisce agli ultimi 5 minuti, gli ultimi 5 giorni un qualcosa comunque che ha a che vedere con il rapporto che hai con l'altro che ti ha rifiutato ma stretto nel tempo quello è un errore perché in realtà l'origine del rifiuto è molto molto più antico non è gli ultimi 20 giorni, anche l'ultimo anno è molto molto più in là quello che io ora farò sarà prendere la mia esperienza sul campo visto che tutti i giorni incontro, grazie a Dio, tantissime persone in sessione quindi la mia stessa esperienza si vada affinando giorno per giorno e vi farò un elenco sarà minimo perché poi ce ne sarebbero tantissime altre di cause di varianti ecco che noi possiamo associare come causa del rifiuto ma ora vi ricordo di mettere un bel like a questo video di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto cliccando sulla campanellina così vi arrivano le mie notifiche e ora sigla va da sé che ognuno di noi è dentro di un serbatoio di chiamiamole memorie che però si definiscono meglio con il termine di predisposizioni cosa sono le predisposizioni? sono quegli eventi a cui noi siamo per l'appunto predisposti ma che si differenziano dai predestinati predestinati insomma significa che il tuo destino è già tutto segnato io invece desidero pensare che anche se piccolo insomma esista un libro arbitrio uno spazio come direbbe Vadim Zeland delle varianti su quale poter accedere e dire voglio cambiare la mia vita ma per fare questo dobbiamo diventare consapevoli non è sufficiente appendere un diploma al muro dire ho fatto tre livelli di questo cinque di quest'altro dobbiamo consapevolizzarci prendere consapevolezza e comprendere i meccanismi inconsci ed è quello che io cerco di fare tutti i giorni in sessione e attraverso i miei video la verità non ce l'ha in mano nessuno però io cerco nel mio piccolo di contribuire per arrivare ad un pizzichino di verità ci sono due tipologie di predestinazioni o meglio che nascono poi da dove nascono poi le predisposizioni sono fatti stressanti accaduti a noi vicino alla nascita può essere quando eravamo feto tipo la mamma cade e noi ci spaventiamo e la leggiamo come la paura di essere eliminati questa è la lettura inconscia oppure successivamente con i pianti talvolta isterici di un bambino nei primi soprattutto chi mi segue se lo ricorderà i primi 18 mesi quelli sono i mesi più importanti che determinano le nostre predisposizioni cioè quello che accade nei primi 18 mesi è praticamente il marchio che determinerà quali saranno le nostre varianti di vita che potremo anche cambiare ma ripeto sempre osservandoci dentro comprendendo i meccanismi più profondi e poi il secondo punto sono invece i fatti genealogici esperienze genealogiche di una nonna di una zia dove loro per primi per prime si sono sentiti rifiutati da qualcuno per esempio della famiglia o dal sociale e via dicendo uno dei programmi importanti che ci riguarda in prima persona quindi parlando del punto 1 c'è quindi eventi stressanti per noi che sono accaduti a noi direttamente vuoi prima della nascita vuoi dopo sono quando la nostra mamma per esempio ma anche il nostro padre ci hanno visti come un peso ora è un'espressione un po' infelice un po' esagerata salvo alcuni casi estremi però tipo quando una mamma si sente limitata nel poter ritornare così ad avere una vita libera con le proprie amiche o potersi realizzare lavorativamente parlando e via dicendo questo è uno appunto dei fattori più importanti perché la fonte numero uno che ci ha creati mamma e anche papà se loro per primi anche attraverso una comunicazione non verbale e persino non chiara loro stessi noi per loro siamo come un qualcosa di scomodo magari in forma lieve beh quella forma lieve può diventare un vero e proprio rifiuto vissuto in età adulta da parte di qualcuno della società o un partner futuro e parliamo magari di frazioni di secondo dove la mamma e il papà facevano tra loro dei ragionamenti del tipo ve ne faccio uno sì ma adesso avremo difficoltà ad arrivare a fine mese lo amiamo tantissimo questo bambino però dobbiamo vivere con i tuoi genitori quindi ci sarà un problema di carattere perché tua mamma non è una persona diciamo molto tranquilla quindi io soffrirò di tutto questo e via dicendo tutto questo formerà gli stati di stress per la madre per il padre che diventeranno stati di stress per noi che diventeranno a loro volta le nostre predisposizioni una delle cosine più pesanti è quando noi ci siamo sentiti in quella fase di tempo prima di nascere poco dopo la nascita causa della loro infelicità io qui ho scritto causa della loro tristezza se ad esempio il destino vuole che la mamma ha una crisi che non è la crisi post parto necessariamente è una crisi interiore magari non si sente più accettata come prima scelta come prima dal marito sente che il marito adesso deve affrontare economicamente la situazione di avere una bocca in più da sfamare e non le dedica tutto il tempo ebbene questi dati entrano in quella che è la testolina del bambino della bambina e diventano un programma mi stanno rifiutando e in età adulta diventerà l'anticamera del rifiuto poi noi quando parliamo di paura del rifiuto pensiamo sempre a un fatto voi sapete che noi più abbiamo paure di qualcosa più ce lo attiriamo in poche parole ebbene la nostra paura dice vista questa equazione dove più temo qualcosa più la attiro siamo qui a pensare che attirerò una situazione dove qualcuno mi rifiuterà tutti gli effetti invece no c'è un altro programma questo programma è non creo già in partenza una situazione dove io e quell'uomo che tanto vorrei insomma non mi si avvicina neanche oppure in un lavoro non riesco a trovare lavoro ma perché perché io temo inconsciamente di vivere lì in quel contesto con quell'uomo con quella donna in quel posto di lavoro un rifiuto quindi neanche creo la realtà la realtà da poter poi magari diciamo così migliorare una volta lì sul posto ma non ci è concesso perché perché l'inconscio ti tutela ci tutela dice piuttosto di farti vivere il rifiuto ti faccio evitare qualsiasi forma di appuntamento ti faccio perdere delle opportunità o ti faccio trovare delle situazioni tali da non incontrarti mai con gli altri che ti potrebbero rifiutare così non rimarrai ferita come persona immaginate quelle persone che sono single vorrebbero avere una relazione ma non trovano mai un partner o si avvicinano ma capiscono che non c'è un'intesa quindi non è più un vero e proprio rifiuto c'è il rischio di essere noi a rifiutare il tutto ma proprio perché l'inconscio ci presenta le persone che non ci rifiuteranno mai passiamo noi a quel punto a rifiutare il tutto è un meccanismo di salvataggio uno degli esempi classici è parlando di genealogia quando abbiamo un'antenata potremmo parlare anche di un antenato ma partiamo con l'idea di un'antenata donna viene rifiutata perché incinta in questo caso specifico o teme di essere incinta la paura di essere rifiutata incinta o non incinta che sia è la stessa identica poi come diciamo così informazione che passerà ai discendenti bene ipotizziamo che sia rimasta incinta questa paura che lei ha di affrontare la famiglia e dover dire sono incinta diventerà un programma per i discendenti e creerà la paura di dover parlare per esempio quella situazione dove ci si balbetta e non si riescono a dire le cose tutto perché questa zia ha dovuto trovare il coraggio di parlare dicendo sono incinta di un uomo magari con 40 anni più di me che un tempo era inaccettabile soprattutto se non si era nemmeno sposati quindi ho detto che non necessariamente si è verificato il fatto ma la memoria passa lo stesso perché facciamo un esempio che alla fin fine scopre di non essere incinta era stato un errore il ciclo aveva avuto un ritardo e vi dicendo ma vi ricordate la paura attira ciò che noi temiamo quindi ci diamo una zappata sul piede in questo modo però funziona così e il discendente che cosa eredita eredita quella paura la paura è di essere rifiutato in ogni caso altro esempio che mi è capitato più di una volta un'antenata che poi è venuto fuori mi sembra di aver capito in alcune costellazioni era rimasta incinta era andata ad abortire illegalmente quindi non c'era neanche più il bisogno di andarlo a dire ai genitori sempre che non arrivasse la voce ma so che era ben organizzata la cosa questo mi sembra di ricordare però l'informazione passerà lo stesso è inevitabile un altro dei casi che possiamo avere associati alla genealogia quindi tra i nostri antenati riguarda il posto di lavoro per esempio tuo nonno aveva già una certa età era in prossimità della pensione ma non sapeva utilizzare tecnologie moderne in quel momento si è trovato quindi con qualcuno vicino molto più preparato un know-how migliore si direbbe ebbene questo know-how migliore e soprattutto perché l'altro è più giovane quindi aspetto biologico lo mettono in una difficoltà e in una forma di svalutazione e di un conflitto territoriale nel senso tu qui non ci puoi più stare che diventerà un bel sassone grande per i discendenti non solo in ambito lavorativo perché può diventare per assurdo un qualcosa che ci fa sentire rifiutati o ci fa vivere il rifiuto in un altro ambito cioè voglio aprire una parentesi una carezza in meno che non abbiamo ricevuto quando eravamo bambini non necessariamente in età adulta diventerà una carezza in meno può diventare una banconota in meno i settori come dico sempre all'inizio delle mie sessioni si intrecciano talmente tanto che non si distingue l'affetto dal denaro per fare un esempio una delle memorie direi più pesanti tra quelle che ho elencato ecco è quella dei figli non riconosciuti sapete quante volte mi si rivolgono le persone in sessione dicendo che vogliono migliorare il loro stipendio le loro cosine economiche lavorative e io faccio presente talvolta a meno che non sia la persona stessa a dire ci sono arrivato perché mi succede anche questo grazie a Dio e mi trovo di fronte a una situazione dove non c'è stato un riconoscimento tra un figlio e il proprio padre ad esempio talvolta anche la propria madre ma è già più raro cioè un padre rifiuta oppure non è che rifiuta è che proprio nel periodo in cui stava per partorire la moglie o era in guerra perché era stato chiamato in guerra o era ritornato ad emigrare e disse torno dopo qualche mese dopo che è nato il bambino insomma non era presente anche magari per malattie o per inconvenienti di vario genere beh quel non riconoscimento diventa un sono in difficoltà dice il discendente nel chiedere denaro per far sì che io presti un servizio ma non riesco a chiedere i soldi che merito quante persone hanno paura di dire il mio servizio vale tot non è che nasce dal niente nasce da un mancato riconoscimento in genealogia ricordiamoci se tu fai fatica a darti il valore rispetto a un'operazione economica quale tu presti un servizio massaggio estetista lettura dei tarocchi e via dicendo ma se ne possiamo ci possiamo spaziare tantissimo e hai paura di perdere il cliente chiedendo 5 euro per dire ma sai di valere 80 90 100 chissà quanto ebbene quella paura non nasce da te o da una tua incapacità di gestire le cose nasce a monte da un figlio che non è stato riconosciuto come doveva essere riconosciuto perché io qui ho scritto una frase ho scritto il padre deve riconoscere il figlio nel momento in cui va riconosciuto e tutto deve fluire perfettamente bene i discendenti se il padre non ha riconosciuto bene il proprio figlio ne pagheranno in un mancato riconoscimento del proprio lavoro quindi troveranno aziende che non lo rispettano troveranno aziende che non lo pagano quanto si merita o questa persona non avrà il coraggio dicevo di dire io valgo 100 fai offerta libera ci sono certe persone che fanno così poi magari ottengono lo stesso dei guadagni però dobbiamo ricordarci che il denaro ci permette di vivere ma ci permette anche di fare qualcosa di molto grande con il denaro io posso continuare a fare video posso continuare a spiegare le cose che ho appreso con il denaro noi possiamo fare grandissime cose per gli altri è quando non ce l'abbiamo che non possiamo fare tutte queste cose non avrei il tempo materiale per pubblicare dei libri ma sto parlando di me potremmo parlare di tutte le persone del pianeta ora ti do una soluzione una soluzione importantissima prendi la fotografia presa da internet da dove vuoi tu di un oggetto che desideravi tanto quando eri più giovane ma non lo hai ottenuto questo oggetto te lo fotografi quindi o te lo scarichi come fotografia te lo appendi dove vuoi tu dopodiché sotto ci metti un post-it giallo un post-it giallo quindi se questa è la fotografia perdonate non è una fotografia è testo ce lo mettete qui sotto ok e ci scrivete le seguenti parole io sono meritevole sempre e ovunque potete scriverci anche dell'altro l'importante è che non scrivete parole come abbondanza perché richiama la parola abbandono a livello inconscio scrivete piuttosto prosperità che è già meglio e non usate parole come il non perché a livello inconscio sappiamo bene che non vengono accettate e una negazione poi diventa invece un'affermazione quindi io non mi faccio prendere dal panico diventa io mi faccio prendere dal panico in poche parole sono sicuro che già ti è venuto il desiderio a te che mi stai guardando di applicarti con questo foglio va da sé che questa tecnica io la applico tutti i giorni in questo momento devo spostare la mia tastiera ne ho in corso 1 2 3 4 5 6 7 e a dire la verità sarebbero più di 7 ma perché è da un'altra parte tutti i giorni davanti agli occhi ok non c'ho l'oggetto disegnato fotografato c'ho anche quello non è qui in un'altra stanza però il concetto è quello una frase che dica un qualcosa che io desideravo da ragazzo da bambino non l'ho ottenuta ma adesso io dico la ottengo ci metto quelle parole bingo perché perché il nostro desiderio non soddisfatto di un qualcosa che non abbiamo ottenuto quando eravamo bambini il nostro cervello lo sta ancora cercando e fino a quando non lo ha trovato non gli è stato dato continuerà a dire io non mi sento meritevole altrimenti papà e mamma me l'avrebbero fatto avere all'epoca bene io ricordo a tutti che in descrizione ci sono 4 importantissimi il primo in ordine ti permette di accedere alla pagina del mio sito dedicato agli incontri a tu per tu con me skype messenger tranquillissimamente dal cellulare ci sono all'interno due moduli compilando il modulo 1 avrai da parte di una mia collaboratrice informazioni dettagliate per un incontro una sessione di sblocco viene chiamata in pratica solo nel momento in cui noi ci troviamo io con questa manina ti farò un elenco di obiettivi di carattere economico lavorativo sentimentale rapporto con gli altri con i figli e poi altre eventualmente cose specifiche che ti riguardano ma in linea di massima questi sono gli obiettivi che vanno per la maggiore e poi tu mi darai il tuo di obiettivo dopo questo elenco non me lo dare prima della sessione perché non lo posso leggere per questione di tempistica e anche perché insomma è da lì che iniziamo il nostro lavoro poi io da lì ti farò una lettura di te stessa come persona perché voglio che tu prenda consapevolezza di ciò che ti sta frenando non che ti do da fare dei rituali o altre cose così ma senza averti spiegato il perché dobbiamo farli dobbiamo portare alla coscienza ciò che è nascosto e ci sta bloccando dopodiché avete il ciclo di sessioni attraverso il modulo 2 compilato e arrivano queste informazioni per la chiaroveggenza quindi informazioni dettagliate ed è un percorso a più date individuale personale quindi non è una cosa di gruppo viene rilasciato un attestato a risultato raggiunto poi avete le mie due gioie alla isha e il manoscritto segreto proprio oggi ho avuto un po' di tempo per terminare la correzione ufficiale della bozza del mio nuovo libro il destino nelle tue mani tanto per stare in tema e quindi adesso c'è l'impaginazione sono vari passaggi pubblicare un libro non è una cosa così tanto facile quindi un applauso alle case editrici per l'impegno che ci mettono e tutti quelli che ci stanno dietro questi due libri alla isha e al manoscritto segreto sono due saggi di psico biogeneologia quindi studio dell'inconscio della genealogia tutto quello che potete sapere per migliorarvi però romanzato quindi ci sono delle perdonate delle storie ho toccato il microfono delle storie che io ho raccontato per rendere il tutto più comprensibile e che acchiappa anche un po' ecco poi avete il link per la pagina del mio sito dedicata ai videocorsi completi seminari completi dove potete imparare grandi cose perché sono proprio i seminari che davo nelle varie città è facilissimo vi arriva un'email ci cliccate sul link e accedete direttamente è similissimo a youtube li potete guardare comodamente dal cellulare dal tablet dal computer da dove volete voi poi avete la pagina del mio sito dedicato alle live e lì prima o poi riprenderemo non ho ancora niente in programma io vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine di questo video un grandissimo abbraccio dal vostro fabionezzac punto net di questo video